impennata di casi di coronavirus registrati nella regione Marche. Sono ben 84 i nuovi casi positivi al contagio rilevati nelle ultime 24 ore. Certo, sono aumentati i tamponi effettuati, ben 2.517 divisi fra i 1.524 del percorso nuove diagnosi e 993 del percorso guariti, ma il salto resta comunque enorme e colmo di interrogativi. Un balzo considerevole rispetto ai 35 casi di ieri e ai 22 del giorno prima. Un salto a 84 casi che riporta indietro addirittura alle inquietanti settimane del lockdown, perché per tornare ad una giornata con così tanti casi di coronavirus bisogna addirittura riavvolgere il nastro della pandemia fino al 16 aprile, quando se ne registrarono 86. Preoccupante soprattutto l'impennata di casi nella provincia di Ascoli Piceno, dove se ne sono registrati oltre la metà, ben 46. Va ora indagata la motivazione di questa moltiplicazione di casi ascolani che pare per lo più circoscritta a contatti in ambito domestico e scolastico. Più contenuta invece la crescita nel Pesarese, 12 casi come i 12 registrati nel Maceratese, 7 nuovi casi invece in provincia di Ancona e 7 in quella di Fermo. In pratica c'è stato un testa-coda rispetto alla fase 1 della pandemia, quando la stragrande maggioranza dei contagi erano concentrati nel nord della regione, mentre ora Pesare e Ancona vengono toccate dal virus in maniera più contenuta. Il dato degli ospedalizzati racconta che invece nelle Marche ci sono attualmente 36 ricoverati, uno in più di ieri, di cui 5 in terapia intensiva.